casa 2 c'è la prima volta yn alla tua perché due niente stiamo scopata durante la prima sera Freddy bugia eeeh no e quindi quello che facciamo morge il capone bad la maturata 2 2 di te science rostro per te stisario di giustemente roma la gelade è il clave mi dici che è questa? una delle tue solite ruste e dove l'hai conosciuta? ha un'altra club e poi quando si è portata con gli occhi ah non vuoi farle guarda agli altri come si è andato via no no, l'ho visto marina insomma come si chiama? enrica chi si è affacciato? enrica la tocca ma io l'ho già visto come ti chiami? l'hai cagliato? l'hai cagliato? l'hai cagliato? l'hai cagliato? l'hai cagliato? l'hai cagliato? no, una canna roto oh, ma che si è ordinato in giro l'hai cagliato ben intimo gli e lei benissimo datemi un bacio facciate una fredda il bacio da un bacio ma con fericcio? oh dati un bacio a sacchia lui no mi piace di bene no ma sei stavolentini di napoli i baci di stagio io non sono stato pervenzino di napoli io non sono stato pervenzino di napoli io non sono stato pervenzino di napoli ma sei cagliato in basso ancora non la cagliato da quel giorno che non l'ho visto no no un po io direi una cosa che non si è un giorno andrà all'ospedale gruppo comunque non ci sono stati abbracciatevi fatemi dire tacchiamo non puoi smontare va è utile ti vuoi fare una porta fatevi la foto che cini cini guardatevi guardatevi eh che spaghetti schifichi che tra dei mesi sarà il tuo venire da me guardatevi 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 te li cacciapure gira guardatevi guardatevi che fa che fatti che gli sei a stare al mondo a questo? ah guardalo controllo deciso pure non ho una parola no perchè guarda costa i massimi 8 anni guarda che guarda che guarda che guarda che guarda che guarda che è strano che non ci capisci perchè sei sempre come in persone del sud tranne la torinoese ma buon signo che è un cretino brava che di Napoli parla parla portoghese parla portoghese poi tutti i cattivi Aldo Bernardo con lui parlava italiano lei diceva che non parlava non parlava si ha un accento totalmente diverso alla vostra poi poi tutta volta è pari non si capisce niente poi si parla il telefono ancora peggio è meglio il telefono amica parla con te poi poi ma che fai cosa vuoi quel caso fai questa milanese non è bolognese eh i bolognese i bolognese i bolognese i bolognese i bolognese tutti li la bb 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 ragazzi ripanne voglia di staspotendo ma finisci ma la vuoi finire con qualcosa a fammi riprendere un po a te che vi faccio vedere in che stato sei voglia non è la scusa il telefono ti butti addosso dai chiamagli a te per il tempo il corso di scuola scuola per il titolo per il per il servizio del grande bolognese ma non si chiama bolognese ma non si chiama bolognese bolognese bologna e tu direi amici che hai fatto con chi? ma st'ora ma st'ora ma ricetta il spagnolo ma tu non c'hai fatto solo in spagnolo? come andò? 3 punti 3 punti 3 con chi l'hai fatto? 2 2 uomo 2 ma sti nezz buona è la martinizia no ma quanto il cenato non ho fatto io? buona carina è buona femmina non dice male un'altra femmina no ma non è vero non è vero cazzo fai? vabbè comunque guarda casa non è vero non è vero vedo